Stecca in casa il canistro che non riesce a muovere la classifica tuttavia per nulla compromessa. Le ragioni di questo imprevisto scivolone interno sono tante e non tutte sono il frutto di errori collettivi. Più fango che Erba nel rettangolo di gioco, pertanto prevale la legge del palla lunga e pedalare. L'inizio comunque è arrembante, come testimoniano le sequenze filmate da Tony Di Matteo. Al quinto il primo sussulto, ottima intuizione di Sorrentino che al limite dell'aria fa da sponda per Berardi. La rasioiata di quest'ultimo si stampa sul palo. Nonostante il terreno allentato, le due squadre non si risparmiano. Pressing a tutto campo del canistro contro le improvvise accelerazioni dei marchigiani. Un nuovo affondo dei locali lo si registra al quattordicesimo. Antonelli si sgancia in proiezione offensiva e sfodera la sua arma migliore, il colpo di testa. La sfera si infrange sul muro giallorosso a pochi passi dalla linea di porta. L'area canatese soffre, corre ai ripari, neutralizzando gli esterni e prendendo costantemente le misure. Ventisettesimo, pericolo, di nome di fatto, cicca la sfera da ottima posizione. Mentre al trentaseiesimo Basilico mette in apprezzione il giovane croce. Proprio in chiusura di tempo Sorrentino, lanciato a rete, viene chiuso da Caneletti in uscita. A rientro in campo il canistro si presenta con una nuova tenuta tutta bianca. Quell'atletica di tenuta si effilavolisce invece col peggioramento delle condizioni del terreno. A complicare la situazione l'episodio, che a conti fatti, risulterà determinante. Croce non è sente da colpa e viene trafitto da Voenea, abile a sfruttare la clamorosa ingenuità. La reazione di impeto dei ragazzi di Sorrentino non è sufficiente. Gli attaccanti non pungono per via anche dei scarsi rifornimenti. Per tutto il secondo tempo l'unica conclusione porta la firma di Mariani a cinque minuti dalla fine. Nel recupero, causa lo sfilacciamento dei reparti, gli ospiti hanno anche l'occasione per arrotondare. A questo punto serve un'altra impresa, Corsara, per confermare il trend altalenante delle ultime settimane. In sala stampa un mister Sorrentino, a quanto polemico, analizza la gara in modo del tutto inaspettato. Io non sono mai polemico, però lei mi ha fatto una domanda, attacca a Bulico. Ragazzi, loro hanno fatto non un tiro in porto, un cross, hanno vinto la partita. Attacca a Bulico su un campo impraticabile credo che sia il tutto. Quindi una domanda credo che non andava fatta. L'inizio comunque sembrava promettente, poi alla fine che cosa ha compromesso la partita? Ha compromesso la partita che abbiamo commesso un errore pacchiano. E quindi una partita che si era incanalato sullo 0-0 e solo un episodio poteva sbloccare. Perché, come ripeto e come ho detto prima, era impossibile giocare a calcio oggi. Credo che era giusto non iniziarla nemmeno. Perché al di là delle fasce, ma pure al centrocampo, si affondava fino alle caviglie. Quindi impraticabile totale. E purtroppo succede l'episodio. Poi è più facile distruggere che costruire con un campo del genere. Quindi devo dire che loro non ci hanno mai impensierito. Quindi bravi loro a sfruttare una nostra ingenuità, un nostro errore. Però credo che ancora una volta il risultato è molto, ma molto bugiato. Al di là delle decisioni non ottimali della Terna, oggi che uno lo dice, però sa che si può sbagliare. Sbagliamo noi. Ogni tanto puoi incontrare anche una Terna che non è al top della condizione.